Mancano uomini e mezzi. È un agosto precario per il servizio socio-sanitario della Versilia. Lo denuncia il sindacato Fialz che insieme ad un gruppo di dipendenti è tornato a manifestare con un presidio di fronte al distretto Tabarracci. Avevano promesso di arrivare a darci delle soluzioni tipo una guardia la mattina per l'entrata e per l'uscita degli operatori e in più anche a eliminare personale che dormono e pernottano dentro l'ospedale e fuori dietro al pronto soccorso dicendo che anche con furti che abbiamo subito i dipendenti in vari anni e che appunto a tutt'oggi i direttori non hanno dato ancora risposta. Una situazione difficile che dipende a detta degli stessi lavoratori non solo dalla carenza di personale ma anche dalla gestione centralizzata dei mezzi di trasporto. Purtroppo la carenza di personale investe sia la parte ospedaliera ma anche la parte territoriale. C'è carenza di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tutte quelle figure che appunto operano sul territorio. C'è una carenza anche di mezzi in quanto questa attività necessita appunto come per il domiciliare necessita di mezzi quindi auto eccetera che a questo punto sono obsoleti e danno delle problematiche importanti quindi molto frequentemente saltano le attività a domicilio proprio perché i mezzi sono diciamo così in condizioni che non possono operare al meglio e all'ottimo. Il nuovo regolamento del parco auto varato dalla ASL Toscana Nord-Ovest, denuncia FIAS, ha aggravato il problema perché medici, infermieri ed educatori professionali si sono trovate a dover gestire un'attività che non è di loro competenza e che sottrae tempo all'assistenza. Le auto messe a disposizione di chi deve gestire il paziente a domicilio, raccontano i dipendenti, sono malfunzionanti e per chi è di turno svolgere il servizio può diventare un'odissea. No, perché le macchine sono vecchie, alcune non hanno l'aria condizionata, quale sì, quale no. Sì, sono vecchie, hanno bisogno purtroppo di un cambio. Sì, perché noi bisogna occuparsi, c'è da portarle dal meccanico o dovunque, c'è da andare. Magari se c'è una graffiatura c'è da occuparsi anche della carrozzeria che bisogna avvisare e poi portarle. E tante volte si rimane, anche sulla psichiatria, di tre macchine o se ne rimane con una, con due, è difficile anche fare il servizio.